ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sicuramente molti di voi conosceranno la centrale ajax hub bianca o nera che magari avete anche già installato a casa vostra o chissà dove per chi non la conosce una centrale molto semplice da configurare molto performante un sacco di opzioni accessori componenti aggiuntivi è un prodotto che va bene che si compra al prezzo delle patate online e per questo che non piace molto a noi installatori perché è difficile venderla quando si trova online magari da mercati paralleli eccetera gente che non paga le tasse sfondiamo un muro aperto ripeto non è molto amata da noi installatori perché è difficile venderla detto questo una centrale che funziona bene molto versatile ma non tutti sanno che nella sua versatilità c'è anche l'opzione di alimentarla in bassa tensione normalmente vi arriva col cavo e la spina del 230 volt ma esistono delle schede da cambiare internamente per alimentare il modello hub a 12 volt il modello ab2 e ab2 plus da 12 anche a 6 volt quindi esistono tre versioni di scheda funziona sostanzialmente non è una procedura difficile da fare questa conversione ma volevo farvelo vedere mi è capitato di fare un lavoro perché ne ho venduta una a un cliente da mettere in una baita dove la vuole alimentare in bassa tensione con le batterie dell'accumulo e allora ho detto facciamo un video magari può tornare utile a qualcuno prima di andare avanti col video di farvi vedere il procedimento mi raccomando iscrivetevi al canale a voi non costa nulla ci vanno due secondi a fare clic per me diventa molto importante andiamo avanti col video ok prima cosa da fare è spegnere la centrale tenendo premuto il pulsante di accensione una volta spenta se è collegata in rete con cavo lan estraete il cavo e andiamo a estrarre anche i 220 di alimentazione questi li mettiamo via questo cavo del 220 non ci servirà più nell'imballo originale della vostra centrale ab avevate questa comodissima spugnetta che può servire per fare il lavoro che andiamo a fare adesso dunque prima di smontare la centrale vi faccio vedere cosa vi dovete procurare esistono tre versioni di alimentatore ajax esiste il 12 volt per le centrali ab ab plus ab rex esiste il 12 volt per le centrali più velute ed esiste anche un alimentatore 6 12 volt quindi prendete quello idoneo alla vostra centrale nella scatola troverete le istruzioni un comodissimo jack d'alimentazione con i morsetti segnati più a sinistra e meno a destra questi sono universali gli arrivate coi due fili vengono usati anche per telecamere altre applicazioni e il classico jack da 5 e mezzo e qua troviamo il nostro alimentatore sarà semplicemente da montare al posto di quello originale si connette tramite questo connettore alla piastra madre e c'è solo la parte diciamo per quanto riguarda l'alimentatore in sé sono quattro componenti messi in croce però questo ricambio è fondamentale per fare la conversione prima cosa a fare è aprire la centrale svitando queste quattro piccole viti usate un inserto di qualità perché sono molto facili da spanare mettetele da parte dove non si perdono tolte le quattro viti questa parte di plastica si sfila dalla parte frontale del guscio per sfilarla deve venire via dritta non è molto semplice ma con l'aiuto di un cacciavite senza fare leva di rato che andate a rovinarla c'è qui una fessura che potete prendere per alzarla prima da un lato poi potete usare la fessura dello switch ma attenzione a non rovinarlo per alzarla dall'altro rifate la stessa cosa e pian piano vedrete che riuscirete ad aprirla senza rovinarla mettiamo da parte un secondo il coperchio quello che dovremmo fare è cambiare questo pezzo di piastra con questo vedete che è uguale solo che anziché avere l'ingresso a 220 ce l'avremo a 12 per farlo però dobbiamo smontare tutta la piastra sia la parte della logica sia parte dell'alimentatore quindi 12345 viti per l'alimentatore 12345 viti per la scheda madre principale togliete le tutte quante sono tutte uguali ok arrivati a questo punto tutti e due i moduli elettronici vengono via dalla piastra facendo piano piano facendo attenzione occhio solo a non perdere il pulsante d'alimentazione correlativo gommino fatto questo possiamo sconnettere l'unità principale da questo che è l'alimentatore a 230 volt per mettere questo a 12 questo strip va connesso alla piastra madre già che ci siamo vi faccio capire cosa c'è dentro una centrale così evoluta che alla fine ha proprio giusto 45 componenti messi in croce tre led insomma pazzesco cosa si riesce a fare il giorno d'oggi con l'elettronica quindi andiamo a inserire questo connettore nella sua sede voilà abbiamo messo l'alimentatore a 12 volt bisogna rimontarla se non vi ricordate come si monta è molto semplice perché voi prendete la base dove c'è il bottone d'accensione deve andare a pigiare su questo bottone quindi non potete sbagliarvi monta solo in questo modo fate attenzione a fare entrare tutte le parti bene al loro posto deve andare in appoggio su questi pernini i buchi per le viti devono coincidere e vedrete che vi troverete poi da questa parte con l'ingresso 12 al posto di quello 220 rimettete tutte le viti che sono quelle corte voilà controllate che sia bene in posizione che sia tutto in quadro che il pulsante risponda correttamente che lo slot per la sim sia nella giusta sede e siamo a posto ora basta rimettere il coperchio questo ha un verso con il connettore in alto e l'uscita cavi in basso l'uscita cavi in basso va sulla parte bassa della scritta in questo modo ok rimettiamo le quattro viti più lunghe lavoro finito questa centrale è la stessa di prima ma ora non è più alimentata a 220 ma è alimentata a 12 ora la proviamo prendo un alimentatore 12 volt solo per fare un test sul connettore come detto prima sul più mettiamo il filo positivo sul meno il negativo e li colleghiamo anche all'alimentatore alimentatore collegato e acceso colleghiamo il nostro jack alla centrale colleghiamo anche la rete la accendiamo richiudiamo il coperchio in modo da premere il tamper antirimozione la centrale tornerà in linea abbiamo lo stato coperchio chiuso alimentazione esterna collegata se noi invece stacchiamo l'alimentatore a 12 volt vedete che va in alimentazione esterna scollegata ridiamo alimentazione arriva la notifica la centrale risulta collegata e tornerà a funzionare esattamente come prima perché è comunque una centrale che lavora in bassa tensione questo è un alimentatore che viene installato solo per renderla compatibile con le reti a 230 220 volt che è la condizione comune che va per la maggiore nell'installazione di un dispositivo del genere ma la conversione a 12 volt diventa utile in tantissime situazioni quanto consuma la centrale sul 12 volt e consuma nulla perché un ampere sul 12 volt sono 12 watt il consumo irrisorio sicuramente se avete degli accumuli o anche solo le batterie del camper dove io le consiglio spesso non avete problemi a tenerla alimentata un bel po di tempo se per caso andasse giù la sorgente di alimentazione principale ha comunque il tampone interno una centrale molto versatile l'abbiamo detto in apertura così diventa ancora più facile da installare in contesti differenti se non riuscite a procurarvi queste schede o anche la centrale stessa gli accessori io sono comunque anche rivenditore ajax magari vi posso aiutare vi ringrazio un bel like iscrizione noi ci vediamo al prossimo video prossima diretta o se passate il negozio da torino vi offro volentieri un caffè ciao da massi dattoli